non sono razzista ah no? no, non sono razzista però appunzami ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? io non sono razzista ah non lo è? ma no che non lo so e allora? e allora sono loro che sono strani sono stranieri e io non li posso vedere ci sono battaglie che non sai più per combattere povertà dentro il cuore di te e allora scappi alla ricerca di un asilo un rifugio che protegge la tua vita la tua vita è a testa ma la sua vita è a testa e la tua vita è a testa e la tua vita è a testa molto sacro e di famiglia è a testa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.